35 anni fa ho scritto un libro, La mia Formula 1, e ho raccontato la mia esperienza dal mio punto di vista. Il titolo di questo libro, il sottotitolo è Non era la mia Formula 1, perché confrontando la mia esperienza con gli anni passati ho capito che avrei voluto vivere in un'altra epoca, perché quelli di quei tempi non erano solo dei campioni, erano gli eroi della mia infanzia. Nei miei libri ho sempre raccontato il vissuto del pilota, ho sempre raccontato il pilota con quello che provava, con le sue emozioni, con i suoi sentimenti. In questo mi collego anche con gli altri piloti, con loro ho vissuto. La mia storia di pilota passa attraverso i piloti che io amavo, i miei eroi, quelli degli anni 60. Un episodio simpatico dietro le quinte è il mio primo Gran Premio. Pioveva, dovevo scegliere le gomme. Ebbene, ho chiesto la mia ombrellina e lei mi ha detto guarda le bandiere. Oggi ci sono le previsioni meteo e poi un tempo c'era chi, come Ayrton Senna, si faceva consigliare le gomme direttamente dal padre eterno. Io non avevo speranze. Ho fatto lo psicologo, ho fatto il pilota di Formula 1, mi occupo di corsi di guida sicura, ma scrivere mi dà una grande soddisfazione. Mi permette di comunicare e soprattutto di far capire agli appassionati di Formula 1, a chi ama questo mondo, cosa può passare nella testa di un pilota. Insomma, metterli al volante. Attraverso la storia della Formula 1 tocco per forza l'argomento della morte di un pilota, anche quella che mi ha toccato da vicino, come quella dei miei colleghi, come Villeneuve. Con una riflessione. Non possiamo certo allungare la nostra vita, ma forse con queste esperienze possiamo allargarla. E l'augurio che i miei lettori possano allargare, attraverso la lettura del libro, anche la loro.